Dalle prime ore di questa mattina gli agenti della squadra mobile di Salerno su disposizione della procura della Repubblica di Vallo della Lucania sono nella casa comunale di Agropoli per la conclusione delle indagini preliminari riguardo 12 avvisi. Nell'occhio del mirino gli atti relativi alle indagini già avviate negli ultimi anni e relative a presunte irregolarità negli appalti da parte dell'ente agropolese e della società Agropoli Cilento Servizi. Le indagini che i militari stanno effettuando in queste ore sono a carico del sindaco Coppola, del presidente della società partecipata Domenico Gorga, del funzionario Giuseppe Capozzoli e di altre nove persone.